ciao ragazzi volevo salutarvi ancora una volta sono felicissimo di essere tornato a casa e di avere ancora l'opportunità di potervi abbracciare di essere abbracciato da voi questa è una delle giornate più belle più felici della mia vita e oggi ho avuto la conferma che la vita è incredibile vale la pena di sognare stasera sono a milano al flagship juventus store ciao ciao